Da lunedì 21 maggio a domenica 3 giugno, Pordenone diventa capitale della cultura e del giornalismo italiano. La rassegna Pordenone Pensa porta infatti in città 20 grandi ospiti, da Ernesto Galli della Loggia a Marcello Veneziani, che daranno vita a 10 dibattiti sull'attualità e aperti al pubblico. A organizzare la manifestazione sono i volontari del Circolo Eureka, della presidente Elena Cioling. 10 appuntamenti appunto per questo decimo anniversario dal 21 maggio al 3 giugno. Fra i nostri ospiti i big della cultura, del giornalismo, dello spettacolo. E spazieremo, come di consueto, fra i temi più svariati, quindi andremo dall'arte alla politica internazionale, all'economia. Tante le firme note del giornalismo e non solo, che si confronteranno da posizioni spesso contrapposte. Fra i molti ospiti di Pordenone Pensa, ricordo il confronto fra Alessandro Sallusti e Gad Lerner, l'intervista di Filippo Facci a uno dei grandi del giornalismo, Michele Santoro, ma anche la Masterchef Antonia Klugman e molti altri appuntamenti. Tengo molto a ringraziare il Comune di Pordenone, la Regione e la Fondazione Friuli, che ci hanno sostenuto, e Emanuele Barison, che ha firmato e ci ha regalato questa grafica per la decima edizione. Pordenone Pensa è sostenuta dal Comune di Pordenone. La vitalità di questo territorio e la vivacità culturale della città è dimostrata dal numero impressionante di rassegne e manifestazioni e iniziative che si tengono. Questo grazie ad un ricchissimo tessuto associativo. All'interno di questo ventaglio sicuramente occupa uno spazio importante, Pordenone Pensa, che è una rassegna che ha molti anni, longeva, organizzata benissimo, che consente soprattutto al grande pubblico di interagire, e entrare in contatto diretto con i grandi protagonisti del giornalismo, dell'università, dello spettacolo. E quindi una manifestazione molto bella che dà lustro a Pordenone e che arricchisce ulteriormente il panorama culturale della città. Gli incontri, tutti ad ingresso gratuito, si svolgono tra ex convento, biblioteca civica e area esterna del Castello di Torre. Informazioni dettagliate sono reperibili su pordenonepensa.it e sui social collegati.